Torna alla seconda edizione del Vallefoglia Challenge che quest'anno si terrà il 7 e 8 settembre nell'area antistante del Palla Dionigi di Montecchio e nelle altre strutture sportive della città. Per l'occasione alle 17 di sabato sarà presente anche l'Oro Olimpico di Parigi 2024 della Nazionale di Pallavolo Gaia Giovannini. Un'occasione dunque non solo per vivere lo sport a 360 gradi ma anche per celebrare una campionessa di casa. Come vedete per riposarci raddoppiamo le iniziative, questo è un due giorni dello sport che caratterizza un po' la città di Vallefoglia che è questo binomio fra le tante attrezzature sportive, le tante discipline sportive, le tante società sportive e il binomio con le scuole, con i ragazzi, le famiglie per noi è veramente importante e poi ci sarà la premiazione di Gaia Giovannini sabato alle 17 che ha portato Vallefoglia negli scenari internazionali grazie alle sessioni sportive, in questo caso anche Megabox che ovviamente ha contribuito a battere gli americani che di questi tempi è un onore per l'Italia e lì fu citata anche Vallefoglia. Quindi premeremo, ci sarà un messaggio del presidente del CONI che manderemo in onda proprio nella inaugurazione e soprattutto le società sportive del posto, soprattutto un messaggio rivolto ai giovani, un invito anche a quelli che magari non fanno attività sportiva nelle nuove generazioni ad incontrarci nelle società sportive e anche negli impianti sportivi. Numerose le società sportive Vallefoglia sarà una vetrina per tutte loro e sarà una vetrina anche per conoscere discipline, attività non presenti nel territorio, magari cosiddette minori ma sono ugualmente importanti. Ci sarà questo momento inaugurale alle 17 di sabato 7 con il corpo bandistico di Vallefoglia che è sempre molto scenografico e benvenuto e poi ci sarà questa premiazione, questo riconoscimento a Gaia Giovannini, siamo molto felici di aver avuto questo video messaggio del presidente Malagò, ci sarà un attimo, si riviveranno in qualche minuto insomma l'atleta in campo con le premiazioni, la medaglia, l'inno, insomma saranno momenti importanti. Dopodiché dalle 10 di mattina alle 10 di sera del sabato e domenica ci sarà spazio in un'area ampia, quella dove si svolge il mercato a Montecchio, insomma a fianco agli impianti sportivi più importanti del territorio, ci sarà spazio per tante discipline sportive, quindi invitiamo i ragazzi, le famiglie a partecipare e a visitare questa due giorni importante di sport per il territorio.